tra un continente che è potenzialmente ricchissimo, soprattutto di materie prime critiche e una destabilizzazione, in alcuni casi voluta e costruita, che noi paghiamo più di chiunque altro. E quindi bisogna tornare a lavorare in maniera completamente diversa in Africa. Che cos'è che non ha funzionato? Piano Mattei. Non ha funzionato un certo approccio, come posso dire paternalistico, quando non predatorio, anche da parte diciamo europea, che non aiuta nel dibattito e nella cooperazione con questi paesi. Quello che secondo me va fatto in Africa non è carità, quello che va fatto in Africa è costruire rapporti di cooperazione seri, strategici, da pari a pari, non predatori. Quello che va fatto in Africa è difendere il diritto a non dover emigrare prima del diritto a poter emigrare. E questo si fa con investimenti e con una strategia. Il piano Mattei costruisce, diciamo, una prima, perché ripeto non è che possiamo occuparci da soli di tutto il continente africano, ma costruisce questa idea e il mio obiettivo è che diventi un modello anche per altri paesi europei, anche per altri paesi occidentali, cioè che possano aggregarsi poi al piano Mattei tanti altri che oggi lavorano spesso in ordine sparsi e che si possa invece fare un lavoro, diciamo, serio di strategia sul continente africano. Piano Mattei è più avanti, diciamo, di quanto sembri e di quanto io senta dire. Come lei sa ci sarà adesso la conferenza Italia-Africa tra poche settimane e quella sarà, secondo me, l'occasione nella quale presentare il piano, che come lei sa poi verrà anche confrontato con il Parlamento. Non è solamente l'energia, è il nostro focus. Noi ci stiamo concentrando su alcune materie. C'è sicuramente il tema dell'energia, dello sviluppo energetico. Io non ho nascosto il fatto che ritenga che se noi vogliamo lavorare a una strategia, una strategia che mette insieme l'interesse africano e l'interesse europeo è per esempio l'energia, perché l'Africa è potenzialmente un enorme produttore d'energia e l'Europa ha un problema di approvvigionamento energetico. E si può lavorare con investimenti sulla produzione, soprattutto di energia pulita in Africa, che porta lavoro, porta sviluppo e risolve a noi anche, no? Dei problemi lega il nostro interesse reciproco. Ma noi lavoriamo anche sulla formazione. Il lavoro che per esempio hanno fatto e fanno in Africa diverse scuole italiane, io l'ho trovato straordinario quando sono stata a Addis Abeba, credo che una delle emozioni più belle che ricordo dell'ultimo anno è la scuola italiana di Addis Abeba. E credo che quello per esempio sia un'altra parte del lavoro molto interessante a fare, c'è tutto il tema dell'acqua in Africa sul quale l'Italia può portare un suo valore aggiunto. Quindi stiamo lavorando su diversi filoni, credo che vadano circoscritti, no? Cioè credo che un errore che noi abbiamo fatto delle volte in passato è stato forse distribuire troppo anche le risorse, magari in progetti più piccoli, piuttosto che concentrarci su alcune grandi priorità. Il lavoro che voglio fare io con il piano Mattei è scegliere quelle priorità, immaginare dei primi paesi partner con i quali mettere a terra questi progetti e utilizzare la stesura di questo primo piano, di questo primo embrione per poi moltiplicare queste iniziative anche con l'aiuto degli investitori privati, anche con l'aiuto si spera di altri paesi che vogliono condividere questa strategia con noi. No, ci sono i progetti specifici, ma io non li voglio raccontare prima di farlo, diciamo di presentarlo ufficialmente, certo ci sono i progetti specifici. Grazie. Posso chiedere ai colleghi di fare una sola domanda per cortesia, ma per rispetto di chi ha il quarantesimo, al quarantacinquesimo posto, non per altro. Grazie. Mi ha tolto l'osservazione di bocca. Grazie. Francesco Maesano, Tg1. Buongiorno, buongiorno Presidente. A proposito di dire le concorrenze, il Presidente della Repubblica ha definito la proroga delle concessioni per il commercio ambulante eccessiva e sproporzionata, ritenendo indispensabile a breve, cito ulteriori iniziative di governo e Parlamento, ed è tornato anche sui rilievi analoghi sollevati a proposito della questione dei balneari. Ecco, io le volevo chiedere se e come intendete intervenire sia sulla questione dei balneari che su quella degli ambulanti. Grazie. Grazie a lei. Dunque guardia, ovviamente io ho letto con grande attenzione la lettera del Presidente Mattarella. Per quello che riguarda il tema del rinnovo delle concessioni ambulanti, l'intervento sostanzialmente si è reso necessario per sanare, per uniformare il trattamento che alcuni beneficiari avevano avuto con il rinnovo di 12 anni che era stato disposto nel 2020, con quello che invece riguarda altri che soprattutto per una difficoltà dei comuni non ne avevano potuto beneficiare, creando di fatto una disparità tra comune e comune e tra operatore e operatore. In un contesto nel quale bisogna anche ricordare che per una serie di ragioni queste aziende vanno diminuendo e quindi gli spazi disponibili aumentano. Dopodiché ovviamente l'appello del Presidente non rimarrà inascoltato, credo che su questo occorrerà valutare nei prossimi giorni con gli altri partiti di maggioranza e con i ministri interessati, l'opportunità di ulteriori interventi chiarificatori sulla materia. Per quello che riguarda il tema dei balneari, lei sa che questo Governo ha fatto per la prima volta un lavoro che curiosamente nessuno aveva inteso fare prima, che è la mappatura delle nostre coste per stabilire se esista o non esista il principio della scarsità del bene che è fondamentale per l'applicazione della direttiva Wolkenstein. Questo curiosamente in tutti questi anni dai quali la direttiva Wolkenstein è entrata in vigore nessuno ha ritenuto di doverlo fare. Noi su questo abbiamo proceduto abbastanza velocemente, abbiamo fatto un lavoro serio e ora l'obiettivo del Governo chiaramente è una norma di riordino che ci consenta intanto di mettere ordine alla giungla di interventi, pronunciamenti che si sono susseguiti, che necessita necessita ovviamente di un confronto con la Commissione europea per arrivare al duplice obiettivo da una parte di scongiurare la procedura di infrazione e dall'altra di dare certezza agli operatori che è sempre stata una delle nostre priorità e quindi questo adesso è il lavoro che noi stiamo facendo e che riteniamo sia a questo punto diventato molto importante perché c'è obiettivamente una difficoltà sia per gli operatori che non hanno certezza sul loro futuro sia anche per gli enti che devono poi applicare delle norme che non sono chiare a partire dai comuni che hanno oggettivamente delle difficoltà che ci segnalano continuamente e quindi è oggetto del lavoro delle prossime settimane. Grazie Marco Galluzzo, Corriere della Sera. Buonasera Presidente, volevo chiederle una cosa di cui in Italia si discute da tanti anni ma che poi passano i governi e rimane soltanto nelle cifre delle analisi di istituti internazionali. Da pochi giorni l'Italia presiede il G7 e per curiosità, pensando alla domanda che dovevo fare sono andato a vedere la classifica della Banca Mondiale sul doing business, sulla capacità di attrattività degli investimenti dove noi perdiamo punti ad ogni legislatura e siamo cinquantottesimi in questo momento e i paesi del G7 che con noi fanno parte del G7 purtroppo ci precedono quasi tutti. La Francia che è la penultima è al trentaduesimo posto. Ora, lei non c'entra niente, mi dirà come ha spesso detto in queste occasioni visto che governo da solo un anno. Però le volevo chiedere, visto che queste classifiche valgono quello che valgono, sono molto importanti però sono anche relative. Però per esempio mi ha colpito un dato, addirittura noi siamo al centoventesimo posto per la capacità di rispettare e di far attuare i contratti pubblici e privati su 190 paesi. Ora, il centrodestra da vent'anni, da trent'anni dice che vuole liberalizzare, aprire, togliere laccioli, sburocratizzare. C'è un provvedimento del suo governo di oggi già fatto o del futuro che secondo lei dovrebbe occuparsi di questa materia? Una piccola postilla, è stato fatto un calcolo, negli ultimi 15 o 18 anni, se l'Italia avesse avuto un livello di investimenti esteri pari a quello della media europea avrebbe incassato più di 500 miliardi, quindi 20-30 miliardi l'anno, che per un paese che non ha i soldi per quasi nulla non sarebbe stato male. e postilla nella postilla, Intel, non è un'altra domanda, Intel...